BECAUSE YOU TOO X PIZZA X PIZZA Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono ZEB89 Culo Sono sua sorella Tu mi dici chi sei? Mi serve Come ti chiami online? Ma qual è il tuo nickname? Beh, oggi ho voluto notizie per te Sono cazzi amari per te E quindi colleghiamoci No, giusto L'hai già visto? L'hai già visto? Sai già perfettamente che Sgivo Sudicio Madonna ragazzi Suino Lizzo Scocciola Madonna ragazzi Pinocchio PIZZA Madonna ragazzi Suino Sgivo Sudicio Condolla ragazzi Lizzo Suino Enzola Su P-p-pensola Suino Penzola Su suino P-p-pensola Zuino Penzola Su suino P-p-pensola Suino Penzola Su suino P-p-pensola Arriva il TANF Arriba Mezzo Sei un pezzo di merda L'acquisto di un ventilatore è pubblicatorio Senza di quello si muore dal caldo Oggi daremo un'occhiata ad un modello di ventilatore che È Lizzo Madonna un'unto imparagonabile Sghivo Sudicio Madonna ragazzi Suino Lizzo Sgocciola Madonna ragazzi Pinocchio Puzza Madonna ragazzi Suino Sghivo Sudicio Mondolla la cazzo Lizzo Suino Pensola Su suino Pensola Suino Pensola Su suino Pensola Suino Pensola Suino Pensola Suino Pensola Su suino Pensola Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Sudicio Madonna ragazzi Suino Lizzo Scocciola Madonna ragazzi No Puzza Madonna ragazzi Suino Sghivo Sudicio Madonna ragazzi Lizzo